Ciao e benvenuti in questo primo video short per parlare un po' di una news molto molto importante di mercato tutto fatto per Pellegri al Milan, tutto definito, accordo con la classica formula alla Maldini-Massara quindi prestito con diritto che può diventare obbligo di riscatto per me è un ottimo colpo per due motivi il primo è che comunque Pellegri è ancora giovanissimo, noi pensiamo sia vecchio invece ragazzi è vero ha esordito anni fa ma adesso non ha neanche 20 anni e poi viene come terzo attaccante numero 2 terzo attaccante giovane che per me con a fianco due campioni come Giroud e Ibra può crescere veramente molto quindi come terzo con questa formula ci sta, poi a fine anno si valuta, se ha fatto bene si tiene, se no si rimanda indietro per me ci sta la grande, comunque prima di lasciarci mi raccomando iscrivetevi, commentate col vostro parere e se vi va lasciate anche un bel like per supportare questi video, ciao ciao